Musica Buongiorno, sono Luca Chiarella, studio al conservatorio e sono qui in veste di tirocinante relativamente al master di musicoterapia che ho seguito con la dottoressa Rubettino presso il CSM di decollatura. In un mese abbiamo lavorato con i ragazzi, abbiamo sonato insieme, è stata un'esperienza fantastica perché tramite la musica abbiamo interagito, siamo diventati amici, è un'esperienza che consiglierei a tutti perché dà la possibilità di approcciarsi in un mondo che molte volte viene visto anche in modo negativo, in realtà non c'è niente di negativo e siamo qui oggi proprio per dimostrare questo. Grazie. 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 Grazie.